Un volo in coppia, adrenalinico ed emozionante, in caduta libera. È il progetto Launch in Tandem, il metodo più semplice, veloce e sicuro per avvicinarsi al mondo del paracadutismo sportivo. In Piazza Santoronzo a Lecce è stato posizionato in questi giorni un gazebo all'interno della manifestazione Le Notti Verdi, promossa dall'assessorato all'ambiente, dove vengono illustrate ai cittadini tutte le informazioni su questa incredibile avventura. L'iniziativa è in programma dal 1 maggio al 3 maggio a Melpignano, presso l'aviosuperficie Corte sulla Maglie Gallipoli. Sarà un'esperienza straordinaria, una grande emozione per tutti coloro che almeno una volta nella vita hanno sognato di volare tra le nuvole. La manifestazione è organizzata dall'associazione sportiva Sunflyers, che organizza stage di paracadutismo, eventi dedicati, manifestazioni sportive, corsi accelerati di caduta libera e anche feste di gruppo. La Sunflyers è affiliata alla WIP, Unione Italiana Paracadutismo. È formata da appassionati di paracadutismo, del volo e in genere della cultura dell'aria. È un contenitore e un laboratorio per tutti coloro che vogliono imparare a liberarsi nell'aria perseguendo uno dei più antichi e meravigliosi sogni dell'uomo, volare. Il progetto Lanci in Tandem parte da un breve e chiaro briefing a terra in cui l'istruttore spiega lo svolgimento, le dinamiche e la preparazione al lancio. L'attrezzatura dell'istruttore, spiegano gli organizzatori, ha quattro ganci speciali che servono a garantire l'imbracatura dello studente ed è studiata appositamente per offrirgli la massima sicurezza, il massimo comfort e una buona adesione al corpo dell'istruttore. Una volta usciti dall'aereo, i novelli paracadutisti capiranno che volare non è cadere, ma muoversi nell'aria, salire, scendere, ruotare. L'istruttore si prenderà cura dell'allievo accompagnandolo in caduta libera per oltre 4.000 metri ad una velocità di quasi 200 km orari facendogli vivere emozioni forti come la sensazione della velocità, lo spettacolo mozzafiato che si gode in alta quota senza avvertire il senso del vuoto. L'atterraggio sarà soft grazie alle tecniche innovative e all'esperienza di migliaia di salti tandem eseguiti. A richiesta si possono effettuare anche delle riprese che cattureranno ogni istante dalla preparazione alla caduta libera al morbido atterraggio. Questo emozionante sport, che molti definiscono estremo, non è altro che una splendida esperienza di vita dove chiunque può vincere quelli che comunemente chiamiamo limiti. Grazie a tutti.